Eccoci qua oggi al Salvevili con il batterista Matteo Longhi. Ciao. O dovrei chiamarti Crazy Matte? Crazy Matte diciamo che è il mio alter ego. Bene, allora niente Matteo raccontaci la tua storia, una storia che una ventina d'anni fa, diciamo è cominciata, è ricominciata dopo un grave incidente. Sì, io ho 37 anni e la mia vita è ripartita da zero 22 anni fa a seguito di un incidente dal quale mi sono risvegliato. Ho trovato appunto una gamba paralizzata, la gamba destra, e adesso porto in giro questo progetto chiamato Drone Save My Life, cioè la batteria mi ha salvato la vita perché è quello che è successo. Io ho fatto fisioterapia per un anno e mi sono ripreso grazie alla batteria e quindi porto in giro appunto questa mia storia dalla quale ho imparato tante cose non solo sulla musica. Parti ti ringrazio per il messaggio che ci hai trasmesso, cioè di mettersi sempre in gioco, di non perdere mai la speranza, di provarci che con la tua energia, la tua empatia anche con i miei ragazzi è davvero emerso.